valerio se sposa stefania aspetta quanti soldi ti servono 300 e 150 mila euro a me sto pressa a pochismo 100 150 devi dire 200 mila euro papà ma che mi sta a pia per culo sì ma hai cominciato te però un film di maurizio battista papà mi raccomando se esci non ti affannare e non ti stancare il suo padre è tanto buono tanto bravo tanto morto però signor ecco qua nonno nando non c'è più è dannato ma non sarà pericoloso lei poi è sporco sporco una merda di che sa di tappo ho messo il tappo dentro al naso mi ha detto io per 99 euro ti dà una cinquina mi dà davo gratis una cinquina attenzione amici questo se vuole buttare mio padre quanti mesi le doveva 10 quanti 10 con me ci ha sempre provato con me ci è sempre riuscito non c'ho una lira maurizio quello lo mantengo io mia sorella su elle per un lungo periodo non frequenterà uomini allora ti spacco un braccio sto per diventare papà e tu nonno nonno arriva a cento maurizio adesso sto con lei regia di francesco pavolini socca questo tipo di cerimonia c'è un pagamento diciamo comodo comodissimo metà subito e metà fine di ricevimento uno anzi due tanto di ripio dov'ai dal 9 aprile al cinema ma grazie a tutti